Il Movimento 5 Stelle annuncia che il nome del presidente della futura commissione banche sarà frutto di un'intesa nella maggioranza. Tramonta la candidatura del senatore Elio Lannutti, inizialmente sostenuta dai pentastellati, ma respinta dagli alleati di governo. Per Lannutti ci sarebbe anche l'ombra di un conflitto di interessi con il figlio che lavora proprio alla popolare di Bari. Sull'Istituto di Credito Pugliese esce un nuovo documento. Pochi giorni prima dell'intervento dell'autorità, il presidente di BPB Giannelli e l'AD De Bustis rassicuravano i manager che la banca con i conti totalmente in disordine sarebbe stata comunque salvata senza commissariamento, grazie a un percorso concordato con Banca Italia. Svolta storica del Vaticano sulla pedofilia, Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici. Cambiata anche la norma sul delitto di pedopornografia, facendo ricadere tra i delitti più gravi anche la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all'età dei 18 anni. Novi raid intorno a Tripoli a poche ore dall'arrivo di Di Maio in Libia. Nella capitale il ministro degli esteri ha visto il presidente riconosciuto dall'ONU al Sarraggi e subito dopo sarà a Benghazi per incontrare il generale Haftar. La soluzione non è nelle armi, è il messaggio di Di Maio. La situazione nel paese è davvero esplosiva e coinvolge diplomaticamente anche Russia e Turchia. La manovra in addirittura d'arrivo dopo la fiducia in Senato sarà in aula alla Camera il 22 dicembre dove il governo porrà la fiducia per stringere i tempi. Riferendosi alla legge di bilancio, il ministro dell'economia Gualtieri parla di piccolo miracolo ma nella maggioranza restano le frizioni e dopo il vertice di ieri sera è ripartito lo scontro su un altro tema caldo quello delle autonomie regionali. I 737 Max vanno in pensione, la Boeing ha un ucciato che ne sospenderà la produzione a partire da gennaio assicurando che verrà garantito il posto di lavoro ai 12.000 dipendenti direttamente impegnati sul progetto. I velivoli erano già a terra da mesi dopo i due incidenti in Indonesia e Etiopia che hanno portato alla morte di 346 persone. Rocambolesca vittoria della Lazio contro il Cagliari nei minuti di recupero e Bianco Celesti sono a soli tre punti dalla coppia delle capoliste Inter e Juventus e quindi nel pieno della corsa Scudetto. Intanto a una settimana dall'esonero dal Napoli Carlo Ancelotti vola in Inghilterra sarà il nuovo tecnico dell'Everton, l'altra squadra di Liverpool ora in crisi di risultati. Una buona giornata dal telegiornale della Sette, tante le notizie avete sentito anche dai nostri titoli la svolta annunciata ufficialmente da Papa Francesco nei confronti della lotta agli abusi nei confronti dei minori per quel che riguarda i reati di pedofilia all'interno della Chiesa. Arriveremo a parlarne così come un'ampia pagina politica che su più fronti ci riporta il capitolo banche, che è un capitolo da maneggiare con cautela, lo sappiamo anche rispetto alle esperienze passate, lo sta provando a fare il nuovo esecutivo, quello giallorosso, che sulla partenza della commissione banche ha avuto difficoltà già nell'individuare il nome da mettere al comando di questa commissione, con un nome quello del senatore spinto dal Movimento 5 Stelle e Lannutti, che è già parte dei ragionamenti passati. Tregua dei 5 Stelle sulla commissione banche, sul nome del presidente ci sarà l'accordo, dicono a fine mattinata con una nota, sarà frutto di un'intesa nella maggioranza. Sembra insomma tramontare la candidatura di Elio Lannutti, sponsorizzata finora dal gruppo pentastellato ma indigesta per gli alleati. Proprio a causa dell'impasse sul nome era saltata la convocazione della commissione, fissata per giovedì per eleggere il presidente. Questione dal cuore politico, il profilo di chi la guiderà è destinato a pesare sui suoi obiettivi e gli alleati di governo, finora, non sembravano in perfetta sintonia sul focus della commissione ereditata dal governo giallo-verde. Non solo, il tema del credito è surriscaldato dall'attualità con la crisi della Popolare di Bari, che ha riacceso ai riflettori dei 5 Stelle contro Banchi Italia e la sua indipendenza. posiziona che trova una convergenza immediata nella Lega di Salvini, pronta per riflesso ad appoggiare Lannutti, consapevole dell'effetto indigesto sul resto della maggioranza. Proprio il senatore, già in Parlamento con l'Italia dei Valori di Di Pietro, presidente della DUSB, Foggi insiste. Io non mi sfilo da un ben niente, è stato il gruppo a volermi, Di Maio in persona mi ha detto vai avanti. Banchi Italia dovrebbe essere controllata dal Parlamento. Una provocazione pura per gli alleati sul senatore Peltastellato, presa la questione Savi di Sion. Il testo antisemita, falso storico, diffuso dalla polizia segreta azzarista all'inizio del Novecento, da lui rilanciato nei mesi scorsi. Ma non solo. Il PD fa pressi in su di Maio. Di Canuola Annutti, chiede Fiano. Il PD non lo vota. Per i demmi, infatti, l'autonomia di Banchi Italia resta un'argine. Mentre i renziani, seppur critici sul sistema di vigilanza, accusano i Cinque Stelle di opportunismo sulle banche, ancora scottati dall'offensiva su Banca Etruria. Un pressing che sembra aver dato i suoi frutti, anche perché sul caso potrebbe pesare anche un'altra vicenda, una situazione di conflitto. A quanto apprende il Tg la Sette, il figlio di Lannutti, Alessio, è assunto e lavora proprio alla Popolari di Bari, negli uffici romani, che si occupano di rapporti con la pubblica amministrazione ai grandi enti, assunzione che risale alla gestione di Acobini. Decreto legge sul salvataggio della Banca Popolare di Bari, pubblicato poco fa nella gazzetta ufficiale, tanto se ne è pariato, si continua a discutere anche nel serrato faccia a faccia con il Banca Italia, però emerge nella giornata di oggi un audio, una conversazione tra i vertici di quella banca che era precedente al salvataggio, un salvataggio che sembrava dato per scontato, almeno quanto emerge da queste voci pubblicate dal sito fanpage.it. È il 10 dicembre, una settimana fa, a riunione alla Popolare di Bari a prendere la parola sono Gianvito Giannelli e Vincenzo De Bustis, presidente e amministratore delegato dell'Istituto che è a un passo dal fallimento. La registrazione dei loro interventi è finita oggi sul sito di notiziafanpage.it e l'effetto è dirompente, perché i due rivelano agli altri manager che la banca di lì a pochi giorni sarebbe stata salvata senza il commissariamento, grazie a un percorso concordato passo passo con Banca Italia e che loro, presidente da D, avrebbero conservato le poltrone nonostante la catastrofe in atto. Non si capisce da cosa derivi tutta questa sicurezza, visto che la banca è stata sì salvata dal decreto del governo, ma Giannelli e De Bustis sono stati rimossi. In uno degli audio che farà più discutere, De Bustis traccia una specie di profilo dell'Istituto di cui è stato amministratore delegato dal 2011 al 2015 e poi ancora dal 2018 fino a qualche giorno fa. Questo è un esempio di scuola di cattivo management, di management irresponsabile, di management esaltato e tutti i conti economici truccati. Truccavate pure i conti economici dei filiali, taroccati. De Bustis, ricordiamo, è indagato dalla procura di Bari, ma sorprende anche ascoltare il presidente Giannelli, che solo pochi giorni fa, quando il disastro era ormai evidente, sfoggiava una sicurezza incomprensibile. La liquidità non è un problema. Prima scherzando citavo mia madre, ma ci sono delle persone che mi telefonano e dicono ma io risparmi tutta una vita, che ne faccio? Le devo ritirare? Assolutamente no. Anzi, il presidente annuncia che una professionista sta per riportare alla Popolare 20 milioni di depositi giudiziari perché si fida del percorso intrapreso, un progetto condiviso anche con la Banca d'Italia, che non è l'unica a mostrare vicinanza all'agonizzante istituto barese, almeno a sentire Giannelli. Però c'è anche una fortissima attenzione a questo dato ed è un'attenzione che anche a livello politico è condivisa ai vertici e posso dirlo anche ai vertici del governo. A tracciare le prossime mosse è invece Vincenzo De Bustis. Il 18 dicembre si firma un accordo in cui ci sono i nuovi proprietari che avranno la maggioranza dell'azienda. La banca ridiventerà molto forte dal punto di vista patrimoniale. avrà dietro lo Stato, rivela l'amministratore delegato, che prova a motivare i propri manager. Ci avrà lo Stato dietro e quindi voi potete andare dai clienti e dire quella Popolare Puglia e Basilicata insereggia in piedi, la Popolare Pugliese sta lì e noi ci abbiamo stato dietro, i soldi dateceli a noi. Questo è il discorso che potete fare tranquillamente, li sfondate se avete poi la forza e l'energia commerciale. Sempre De Bustis ammette due cose. è stato il credito e l'argito, la palla di piombo che ha distrutto il patrimonio della Popolare di Bari e la necessità di un importante taglio all'organico. Vedremo quali saranno le reazioni anche rispetto a questo capitolo che sicuramente è entrato anche nei ragionamenti, nei confronti del vertice di ieri della maggioranza concluso a nottefonde. È stata quella la giornata del Via Libre arrivata dal Senato alla manovra. Una manovra lievitata a 32 miliardi. Oggi toccherà il decreto fiscale ma soprattutto anche una conta soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle che potrà avere un nuovo capitolo nella giornata del 22 dicembre quando la manovra arriverà alla Camera. Dopo il sì alla fiducia posta ieri dal Governo sul maxi emendamento alla manovra oggi l'Aula del Senato si appresta a votare il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio. Il testo è già stato modificato dalla Camera dei Deputati. La maggioranza non ha intenzione di rimetterci le mani visti i tempi stretti e la necessità di varrare la manovra entro fine anno. Il Via Libera definitivo dovrebbe arrivare in giornata sempre con il voto di fiducia. Quanto alla manovra invece il testo approvato ieri sera da Palazzo Madama avrà ancora bisogno di un passaggio parlamentare, quello della Camera dei Deputati che dovrà approvarlo senza ulteriori modifiche così che possa avere l'ok finale entro Natale. Domenica 22 dicembre il testo arriverà in Aula, il Governo porrà subito la fiducia. Il percorso della legge di bilancio non è stato facile anche se il Ministro dell'Economia Gualtieri, considerando i pochi mesi di vita del Governo e le turbulenze interne alla maggioranza, parla di un piccolo miracolo che vale 32 miliardi. Maggioranza che ha superato senza patemi la prova dell'Aula, 166 sì, ma che registra nuove ribellioni fra i Cinque Stelle. Quattro senatori pentastellati non hanno infatti partecipato al voto mentre Gianluigi Paragone ha votato contro. Al clima di tensione ha contribuito anche la decisione della Presidente Caselati di stralciare per inammissibilità una quindicina di norme fra cui quella che legalizza il Cannabis Light. Decisione che ha mandato su tutte le furie la maggioranza, soprattutto i Cinque Stelle, che hanno proposto l'emendamento e che hanno accusato l'Azzurra Casellati di aver subito pressioni dalla sua parte politica. Se il PD sottolinea i lati positivi della legge di bilancio è una manovra salva Italia, fa sapere il segretario Nicola Zingaretti, Matteo Renzi è più critico. Nonostante il sì di Italia Viva alla fiducia, chiede un cambio di passo al Governo e rilancia il suo piano da 120 miliardi per sbloccare i cantieri, invito rivolto anche a Matteo Salvini. Italia Viva si è messa di traverso, stavolta insieme ai Cinque Stelle, anche sull'autonomia differenziata. L'unico tema, rimasto sul tavolo del vertice notturno a Palazzo Chigi, convocato in un primo momento dal Premier per iniziare la verifica di Governo sui temi più caldi e poi derubricato ad incontro programmatico sull'autonomia. Incontro che si è risolto con un nulla di fatto dopo che Italia Viva ha chiesto modifiche al testo del Ministro Demme per gli affari regionali, Francesco Boccia, ponendo il suo veto finché prima non saranno affrontati i principali nodi che pesano sull'azione di Governo, a cominciare dalla giustizia. Tutto è rimandato a gennaio. Adesso, adesso, in qualche modo possiamo ragionare su quello che è il corpo, la struttura della manovra. Lo dicevamo, uscita stravolta dalla giornata di ieri, naturalmente in parte per le modifiche dalla Commissione Bilancio, ma poi anche per quella serie di inammissibilità volute dalla Presidente del Senato con una serie di tensioni in aula. Di fatto, però, rispetto a quanto annunciato e quanto entrato anche negli annunci politici di propaganda, le misure di scopo si sono ridotte e non poco. Il testo della manovra in transito in queste ore dal Senato alla Camera contiene le correzioni dovute ai suggerimenti sia del Capo dello Stato che della Ragioneria dello Stato, ma soprattutto della Presidente del Senato Casellati che non ha ritenuto opportuno inserirvi come emendamento la norma divisiva che liberalizzava la cannabis leggera. Ma il testo sarà comunque quello definitivo. La manovra vale 32 miliardi di euro, la metà ricavata dai tagli e da nuove tasse e l'altra è in deficit. Si bloccano i 23 miliardi di aumenti dell'IVA. Le cosiddette clausole di salvaguardia sono sterilizzate in toto per il 2020 e parzialmente dal 2021. Tra le altre priorità del Governo ci sono le misure per il mondo del lavoro, confermato infatti il taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente. Stanziati 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi dal 2021 con l'obiettivo di mettere l'anno prossimo 500 euro annui in più nelle buste paga di oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori con un reddito tra i 26 e i 35 mila euro e che diventeranno mille in più a partire dal 2021. Un primo passo apprezzato dai sindacati che oggi però sono scesi in piazza per la terza manifestazione nazionale per il lavoro. Chiedono al Governo una vera riforma fiscale a vantaggio di dipendenti e dei pensionati, una riforma delle pensioni e una seria lotta all'evasione. A proposito di evasione, la manovra introduce premi in denaro per chi utilizza i pagamenti elettronici come bancomat e carte di credito oltre al rafforzamento dei controlli e contrasto alle frodi sui carburanti. Previsto poi un fondo per aiutare le famiglie che va dai bonus nido fino a 3 mila euro alla costruzione di nuovi asili nido pubblici. C'è poi l'abolizione del super ticket sulle ricette mediche a partire però dal 1 settembre 2020. Sul fronte delle nuove tasse invece ci sarà sia quella sulla plastica, 45 centesimi al chilo solo per la monouso a partire da luglio, e quella sulle bibite zuccherate a partire da ottobre. Quasi azzerata per il 2020, la stretta sulle auto aziendali. Partirà comunque a luglio e varrà solo per i nuovi contratti. Una giornata che rimarrà nella storia della Chiesa, non tanto e non solo, perché oggi è il compleanno del Papa, 83 anni, gli auguri da tutto il mondo, ma soprattutto perché Papa Francesco, come spesso è successo durante il suo pontificato, ha dato seguito alle parole, agli annunci, la lotta contro gli abusi, la lotta alla pedofilia e la maggior trasparenza che adesso arriva. Pedofilia è un passo storico per il Vaticano. Il Papa abolisce il segreto pontificio sui casi di abusi sessuali commessi da preti sui minori ed eleva il reato fino a quando i soggetti abbiano 18 anni. Con il Rescriptum Exudienza Santissimi pubblicato oggi, Papa Francesco volta pagina su uno degli scandali che hanno scosso alle radici la Chiesa Cattolica, toglie il velo a una piaga che in tutto il mondo per tanto tempo il Vaticano non ha contribuito a rivelare. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi, le decisioni riguardanti i delitti in materia di abusi sui minori, recita l'articolo 1. Resta il segreto d'ufficio da rispettare in ogni fase e diretto a tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. La mossa di oggi segue a ruota il summit di febbraio in Vaticano sulla pedofilia di decisione storica parla il direttore editoriale del di Castero della Comunicazione Andrea Tornielli. Le denunce, le testimonianze, i documenti processuali relativi ai casi di abuso conservati negli archivi dei di Casteri Vaticani, come pure quelli che si trovano negli archivi delle diocesi e che fino ad oggi erano sottoposti al segreto pontificio, potranno essere consegnati ai magistrati inquirenti dei rispettivi paesi che li richiedono, spiega, un segno di apertura, di disponibilità, di trasparenza, di collaborazione con le autorità civili. Insomma, il clero fa mea culpa su uno dei peccati più orribili e chiede che sia punito. Da quando c'è Papa Francesco sono arrivati in Vaticano oltre 2.500 nuove accuse di pedofilia. Solo nel 2017 si contano 410 denunce verosimili. Dal 2013 ad oggi in media è stato segnalato ogni giorno un nuovo prete pedofilo. Sono i dati ufficiali della Congregazione per la Dottrina della Fede. Adesso veniamo al caos libico. Si prova a riprendere il dialogo anche politico perché politica dal punto di vista degli interlocutori deve essere la soluzione. Interlocutore credibile vuole essere l'Italia forse il più credibile a livello europeo nelle intenzioni del ministro degli esteri Di Maio che è in Libia nella giornata di oggi a confronto anche sul territorio con quelle che sono le difficoltà legate a un intervento militare ancora attivo. La soluzione alla crisi libica non può essere militare. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio vuole in Libia per incontrare i protagonisti della crisi. Una missione diplomatica complessa e difficile quella del nostro ministro degli esteri nata pochi giorni fa a Bruxelles dopo il vertice a tre fra il premier Giuseppe Conte il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel. E proprio in Germania a Berlino sarà ospitata a gennaio la conferenza per discutere della crisi in Libia un appuntamento al quale la comunità internazionale dovrà presentarsi con in tasca alcuni risultati già acquisiti come il cessato il fuoco sottoscritto tra le parti in conflitto. Le notizie sul campo però non sono rassicuranti qualche giorno fa il generale Khalifa Haftar che controlla la Cirenaica ha annunciato l'avvio di un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli mentre proprio in queste ore la sua aviazione sta colpendo a Enzara località sud della capitale. Intanto dopo l'incontro con Al-Serraj il premier riconosciuto dalla comunità internazionale Di Maio si sposterà a Benghazi per incontrare Khalifa Haftar infine andrà a Tobruk per vedere il presidente della Camera dei Rappresentanti Aguilar Saleh appena rientrato da una missione in Grecia ed Egitto e proprio dall'Egitto che insieme a Russia Arabia Saudita ed Emirati sostiene Haftar è arrivato un duro attacco contro Al-Serraj il governo di Unità Libica ha detto il presidente Al-Sisi non ha un vero libero arbitrio perché è ostaggio delle milizie armate e dei terroristi avremo il diritto di interferire negli affari della Libia ma non lo abbiamo fatto per mantenere le relazioni e la fratellanza con il popolo libico Nei giorni scorsi l'inviato dell'ONU Gassan Salameva aveva messo in guardia dal rischio di interferenze esterne un riferimento alla Russia che avrebbe inviato nel paese circa 500 mercenari mentre ieri il ministro degli esteri Lavrov ha discusso del dossier Libia con i rappresentanti della Lega Araba Nello scenario libico però incombe anche la minaccia di un'ingerenza della Turchia Al-Serraj è volato ad Istanbul dove con il presidente Erdogan ha discusso dell'offerta relativa all'invio di truppe per contrastare l'avanzata dell'esercito di Haftar Torniamo in Italia lo sapete sono giorni di particolare mobilitazione anche dal punto di vista dei sindacati la lotta per difendere il lavoro che ci riporta naturalmente a tutte le difficoltà dell'ex ILVA e dunque la mobilitazione a Taranto in attesa di capire soprattutto quel che avverrà nella battaglia legale con Arcelor Mittal da parte del governo e in questo caso sono soprattutto i legali delle parti a fare la differenza in attesa della prossima data per ora fissata che è quella del 20 dicembre il negoziato tra governo e Arcelor Mittal prosegue in questi giorni sotto traccia lontano dai riflettori un confronto serrato nel tentativo di trovare un accordo e scongiurare la procedura di recesso ma in parallelo prosegue anche il contenzioso legale innescato all'inizio della crisi i legali della multinazionale franco indiana hanno deciso di presentare una memoria al tribunale di Milano servirà per replicare il ricorso cautelare d'urgenza dell'amministrazione straordinaria uno strumento di difesa alla quale Arcelor non ha voluto rinunciare una mossa procedurale da qui al 20 dicembre data dell'udienza al tribunale di Milano si può ancora arrivare ad un'intesa resta tuttora in piedi anche la possibilità che le due parti chiedano un breve rinvio per poter mettere a punto un accordo sul rilancio del siderurgico lo snodo principale è quello del numero degli operai considerati in esubero che Arcelor vorrebbe mettere in cassa integrazione ipotesi rigettata dai sindacati che chiedono il lavoro per tutti e 10 mila gli operai come era scritto nell'accordo firmato un anno fa mentre il Premier Conte nell'annuncio del contropiano industriale del governo lavora per abbassare di molto la quota di esuberi paventata dalla società franco-indiana con investimenti per un rilancio dello stabilimento di Taranto in chiave sostenibile per ridurre l'impatto ambientale grazie all'utilizzo di uno o due forni elettrici e al rifacimento completo dell'alto forno 5 si discute sul ruolo che dovrebbe avere lo Stato con l'acquisto di titoli o con la creazione di una nuova compagnia sulla trattativa gioca un ruolo fondamentale l'alto forno 2 sequestrato dal tribunale di Taranto e inutilizzabile elemento che insieme alla crisi congiunturale dell'acciaio consente ad Arcelor di parlare di produzione ridotta carta decisiva sarà il ricorso che i commissari stanno per presentare al tribunale del reesame sulla decisione presa dal giudice se l'alto forno tornasse a funzionare il governo avrebbe un'arma in più nella trattativa per conservare i livelli occupazionali informare un'informazione libera corretta resta ancora in molte parti del mondo un lusso un mestiere pericoloso rischioso si può perdere la vita ma si può finire anche dietro le sbarre di una prigione ci sono numeri che indicano una tendenza positiva rispetto al passato ma davvero molta strada c'è ancora da fare reporter uccisi sul campo in una guerra oppure giustiziati a fuochi passi da casa a volte brutalmente giornalisti scomodi che pagano con la propria vita la passione per un lavoro che può portare a vivere situazioni estreme a subire minacce per un'inchiesta che è andata troppo avanti o magari troppo in alto anche il 2019 si chiude con un bilancio pesantissimo 49 giornalisti uccisi nel mondo negli ultimi 12 mesi la ONG francese reporter senza frontiere si da una parte fa notare che si tratta del dato più basso degli ultimi 16 anni sottolinea in ogni caso come il giornalismo rimanga una professione pericolosa nei due decenni appena trascorsi hanno perso la vita in media 80 giornalisti ogni anno i fronti più pericolosi sono inevitabilmente quelli di guerra il conflitto siriano quello iemenita l'afghanistan l'iraq con un elemento nuovo l'incremento dei giornalisti uccisi nei paesi ufficialmente in pace in messico nel 2019 hanno perso la vita 10 reporter l'america latina è diventata mortale tanto quanto il medio oriente sempre più giornalisti vengono assassinati per il loro lavoro in paesi democratici ma esistono diversi modi per mettere a tacere una voce scomoda i giornali possono essere chiusi così come i blog e chi vi lavora arrestato i giornalisti finiti dietro alle sbarre sono stati 389 nel 2019 il 12% in più in un anno al primo posto Egitto Arabia Saudita e Cina proprio ieri la compagna di Jamal Khashoggi il giornalista ucciso nell'ottobre del 2018 nel consolato Saudita di Istanbul ha chiesto a Europa e Stati Uniti di fare di più affinché i responsabili del brutale assassino vengano condannati un omicidio che ha chiamato in causa le più alte sfere della famiglia reale saudita ma che rischia di rimanere impunito così come quello della reporter investigativa maltese Daphne Caruana Galizia saltata in aria nel 2017 vittima di un'autobomba proprio oggi il giudice incaricato del caso ha emesso un mandato di arresto per Kate Schembry l'ex capo di gabinetto del primo ministro Joseph Muscat sospettato del coinvolgimento nella pianificazione dell'omicidio per il quale è stato già arrestato come presunto mandante il re dei casino Jorgen Fene che sui cui affari discutibili indagava la Caruana il Boeing 737 Max è già da tempo non più nei cieli del mondo ai box dopo due incidenti mortali che hanno convinto il colosso dell'aviazione americano a fermarne ora anche la produzione c'è un divieto di volo c'è una perdita economica importante ma ci sono soprattutto grandi dubbi rispetto alla sua sicurezza era nell'area da tempo visto che i 737 Max non volano ormai da marzo la Boeing ha annunciato che ne sospenderà la produzione a partire da gennaio lo stop mondiale dopo i due incidenti che hanno portato alla morte di 346 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio il primo quella della Lion Air che ha visto sparire il suo aereo nel mare di Java nell'ottobre del 2018 il secondo quello dell'Ethiopian schiantatosi al suolo dopo il decollo vicino ad Addis Abeba i problemi nel software di bordo causa delle stragi si sono rivelati assai più difficili da risolvere del previsto tanto che le autorità del controllo sul volo sia americane che internazionali hanno spiegato al colosso americano che non avrebbero concesso alcuna autorizzazione fino al 2020 inoltrato si parla del mese di marzo la conseguenza è che la compagnia ha visto crollare le domande di acquisto dell'aereo che ha comunque continuato a produrre e modificare inoltre 40 esemplari al mese ed ora si trova in magazzino 400 verivoli che non può consegnare con una perdita in bilancio secca di oltre 5 miliardi di dollari un colpo duro anche per la bilancia commerciale statunitense di cui la Boeing è l'azienda leader come prima esportatrice nonostante questo i circa 12.000 dipendenti responsabili della catena di produzione di quello che doveva essere l'aereo di punta della Boeing non perderanno il posto ma verranno ricollocati il nostro primo obiettivo hanno fatto sapere da Seattle è completare il processo di ritorno in servizio del 737 MAX questo significa la revisione completa dei software di bordo ed un programma di training specifico per i piloti ed equipaggio con la speranza di riconquistare la fiducia di compagniere e passeggeri un procedimento lungo visto che l'ente per la sicurezza al volo americano anche per far dimenticare le accuse di collusione con la Boeing ha chiesto di spezionare ogni singolo velivolo che esce dalla fabbrica prima di dare il via libera al ritorno nei cieli sul caso Reggeni arrivano accusa ai servizi segreti egiziani da parte dei pubblici ministeri romani che indagano sul sequestro sulla morte al Cairo del giovane ricercatore italiano davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta che si è da poco insediata stamattina sono stati ascoltati il procuratore di Roma Michele Persipino e lo ha sostituto Sergio Colaiocco intorno a Giulio Reggeni è stata stretta una ragnatela dalla national security egiziana già dall'ottobre prima del rapimento e dell'omicidio hanno sostenuto i magistrati con la complicità di persone vicino a Reggeni nonostante le difficoltà hanno aggiunto siamo riusciti ad avere risultati l'inchiesta va avanti ed è arrivato poco fa anche il ringraziamento da parte dei genitori di Giulio andiamo avanti adesso la cronaca ci porta al sequestro di 400 milioni di euro in beni guardia di finanza di Reggio Calabria vediamo i dettagli scommesse sportive online illegali e profitti oggi la guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 400 milioni di euro ad un imprenditore Antonio Ricci attivo nel settore fino ad un anno fa quando la sua organizzazione vicina all'andrangheta è stata smantellata l'indagine a suo tempo condotta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria aveva portato a numerosi arresti con l'accusa di associazione mafiosa Ricci aveva numerose società a Malta ma attive in Italia nelle scommesse sportive online aperte con trucchetti senza autorizzazione per non figurare di fronte alle autorità italiane e non pagare il fisco allo stesso tempo secondo i magistrati permetteva all'andrangheta di controllare su tutta Italia in particolare nel Reggino sale di videolotteri attraverso gli stessi canali di scommesse online aperte abusivamente nell'isola Ricci all'epoca sfuggì all'arresto ad aprile però è stato fermato dalle autorità maltesi poi rilasciato oggi è ancora lì libero le autorità italiane ne hanno chiesto l'estradizione nel frattempo hanno compiuto il primo passo verso la confisca di tutti i beni accumulati dall'imprenditore in sei anni di attività oggi a Malta è stato sequestrato un trust immobiliare da 300 milioni di euro e conti correnti anche in Italia per altri 100 milioni una somma consistente riprova degli interessi sempre crescenti da parte dell'andrangheta nel business sempre più vorticoso delle scommesse sportive online illegali inquinate manipolate con la forza di drogare il mercato lecito e il fine di frodare l'erario e lo Stato torniamo su un episodio ora chiaro nei dettagli che ci riporta a Genova la bomba alle poste nel giugno del 2016 ci sono le novità e gli sviluppi dei micchiessa era una campagna contro poste italiane per la sua compagnia aerea Mistral Air accusata dagli anarchici del trasferimento di migranti in centri di espulsione e hotspot un'azione degli insurrezionalisti che in quei giorni di fine primavera 2016 vanno messo in atto una serie di attentati dimostrativi contro i bancomat degli uffici postali complici delle deportazioni alle frontiere si leggeva su un documento intitolato i cieli bruciano per l'attacco allo sportello delle poste di Genova in via Colombo 8 giugno 2016 oggi è stato accusato Giuseppe Bruna già detenuto da sei mesi nel carcere di Pavia per i pacchi esplosivi inviati a due magistrati torinesi e al direttore del DAP il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il capo di imputazione parla di fabbricazione e porto di ordigno esplosivo l'ordigno non era esploso per un difetto nell'innesco Bruna siciliano militante nell'anarchia torinese è accusato per un guanto da lavoro usato al bancomat da lì una ricostruzione con l'esame del DNA fino alla svolta di stamattina i CIE centri di identificazione ed espulsione si chiudono col fuoco i CIE sono ogni ditta ente e persona che collabora con la sofferenza e la reclusione di chi brucia le frontiere si leggeva nel documento praticamente una rivendicazione su un sito dell'area anarchica c'era anche un riferimento diretto a posta italiana erano stati attaccati bancomat in diverse città Torino Genova Bologna Cagliari ma gli ordigni non sono mai esplosi o perché privi di innesco o per un difetto nella fabbricazione nella legge di bilancio non sono previste al momento misure per rafforzare i servizi che riguardano i pendolari ci pensa Legampiente a fornirci un quadro di quella che è quotidianamente da nord a sud tendenzialmente una sorta di via crucis con tanto di lista delle dieci linee più osteggiate più difficoltose il cambiamento dei treni delle tratte che cosa c'è che va che cosa c'è che sparisce in termini di servizi per i cittadini Scene di ordinario caos che si ripetono quasi tutti i giorni sulla banchina di una delle 13 fermate della linea Roma Ostia-Lido 28 chilometri da percorrere ufficialmente in 37 minuti ma i pendolari sanno bene che il tempo è un'incognita quotidiana guaste i treni ritardi di servizi sovraffollamento degrado e sporcizia nulla è cambiato nel 2018 hanno preso in esame dal dossier pendolaria di Lega Ambiente su questa linea strategica per la mobilità sud di Roma così come sulla Roma-Nord Viterbo che rischia anche di chiudere per il mancato adeguamento infrastrutturale necessario a garantire la sicurezza dei viaggiatori i pendolari radunati in un comitato protestano da tempo ormai ogni giorno su questa linea di un centinaio di chilometri gestita dall'ATAC l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma viaggiano 75.000 persone che si affollano sui 21 treni rimasti 22 sono stati soppressi la scorsa estate la Roma-Nord Viterbo ha scavalcato la Ossia Lido piazzandosi al secondo posto delle 10 peggiori linee ferroviarie del nostro paese in loro compagnia sul podio di disservizi da ben 10 anni si conferma il primo posto l'ex ferrovia circonvesuviana di Napoli 142 chilometri su 6 linee e 96 stazioni nel 2010 tra pendolari e turisti si contavano 40 milioni di passeggeri all'anno adesso sono scesi a 28 milioni le corse quotidiane non arrivano a 300 una parabola discendente dovuta ai cronici problemi dell'infrastruttura guasti continui i treni e migliaia di cancellazioni poi ci sono i problemi per la sicurezza di chi su quei treni sale viaggiatori vittime di aggressioni scipi intimidazioni un viaggio che può trasformarsi in un inferno io non la prendo spesso proprio perché preferisco evitare di rimanere così super ritardi treni che non passano ore seduti ad aspettare a quarto posto c'è la Milano Chiasso in Lombardia 40 mila utenti giornalieri sulla tratta percorsa anche da treni internazionali di collegamento con il nord Europa e che a Seregno si interseca con un'altra linea che raccoglie altri 40 mila passeggeri vuol dire carrozze strapiene e soppressioni quotidiane la notizia positiva i convogli più vecchi di 15 anni vengono gradualmente dismessi soprattutto nelle regioni del nord e del centro il problema è che a volte non vengono sostituiti non ci si muove da 13 giorni neanche in Francia ma non è un caos quotidiano è legato allo sciopero alla guerra contro la riforma delle pensioni 13esimo giorno di protesti vi posso far vedere quella che è al momento la situazione a Parigi con le nostre immagini un'altra manifestazione in vista dell'incontro con il premier che potrebbe avvenire per i sindacati domani ma nel frattempo si alza ulteriormente la tensione perché al di là dei blocchi che hanno paralizzato parte della Francia arrivano anche azioni già rivendicate da parte dei sindacati che si occupano della rete elettrica e nell'ambito della lotta del conflitto sociale sono state manomesse le rete elettriche con un blackout per almeno 90.000 abitazioni nelle ultime ore in particolare nella zona intorno alla città di Lione ci fermiamo ma sopra per la pubblicità poi c'è tutto lo sport tra poco dunque di nuovo insieme seconda pagina del telegiornale dedicata allo sport e la chiusura della sedicesima giornata beh valeva davvero la pena di attendere lo scontro che avevamo presentato come uno scontro per punti importanti per la zona Champions ma la rimonta della Lazio la avvicina a Juventus e Inter e dunque i biancociolesti non possono più nascondersi sono pronti per la lotta a Scudetto il calcio non è scienza esatta concetto ribadito dalle dinamiche della vittoria per 2-1 ottenuta all'ultimo respiro della Lazio sul campo del Cagliari dinamiche spesso bizzarre che hanno un effetto manicheo nelle valutazioni e nei giudizi bianco o nero rabbia oppure gioia se cavalchi gli eventi oppure li subisci il Cagliari beffato dalla Lazio quando aspettava solo di festeggiare paradigmatico sotto questo aspetto ieri sera costretto a soccombere quando vinceva nel recupero molto lungo ma regolare sotto il profilo matematico Maran puntualizza questa è stata una partita che è filata via e per noi era eccessivo però se tanta fiscalità è di casa adesso la vedremo anche nelle prossime gare fino adesso non è stato così nella precedente gara in casa i Sardi invece avevano raggiunto l'estasi perché l'extra time sempre corposo era diventato il paradiso per una rimonta pazzesca sulla Sampdoria firmata a Cerri due estremi dell'imponderabile che il Cagliari vive sulla propria pelle ma che non scalfiscono la sostanza di una squadra alla quale Maran ha trasmesso principi di gioco e un'intensità che fa soffrire gli avversari il limite è stato di non monetizzare le occasioni importanti costruite con un angolano polietrico e vanificate non solo per le parate di Stracoscia da aggiungere che sulla distanza il Cagliari ha pagato il grande rispendio di energie e nella ripresa la formazione di Inzaghi ha messo le tende decisivi cambi del tecnico nella serata storta di Immobile Correa e anche Luisa Alberto che si riscatta però grazie al gol del pareggio lei va stremato che lascia la regia a Cataldi Ioni più intraprendente di Lulic e autore del cross per Caicedo il panterone che all'ombra degli attaccanti di titolari sta diventando un amuleto per Inzaghi dopo Sassuolo e Juventus entra e segna reti significative per una Lazio che ha dimostrato di non arrendersi alle difficoltà un aspetto caratteriale preoccupante in passato che sembra in archivio qualcosa di importante otto vittorie di fila non vengono non vengono per caso sono stati bravissimi ragazzi a crederci anche stasera non era semplice però i ragazzi sono rimasti sempre in partita lucidi Romani terza forza del campionato e destini incrociati con la Juventus domenica a Riad la Supercoppa la Juve che anticipa domani l'impegno della diciassettesima giornata con la Sampdoria mentre la Lazio contro il Verona non giocherà più l'8 gennaio ma il 5 febbraio e poi c'è chi ha lasciato non per sua scelta il nostro campionato parliamo di Carlo Ancelotti che ha superato a quanto pare brillantemente l'esonero discusso e discutibile da parte del Napoli torna manca solo l'ufficialità in Premier League è durato appena una settimana l'esilio forzato di Carlo Ancelotti le sirene inglesi hanno fatto nuovamente breccia nel cuore del tecnico di Riegello che nella giornata di ieri si è accordato con l'Everton il club più antico della città di Liverpool ma che da troppo tempo naviga nelle zone anonime della Premier League e i cui tifosi vivono come un'umiliazione i trionfi recenti degli odiati cugini campioni d'Europa in carica Arvadam Moshiri uomo d'affari iraniano nonché azionista di maggioranza dei Toffis dopo il siluramento del portoghese Marco Silva aveva affidato la panchina a Duncan Ferguson nonostante la vittoria interna sul Chelsea e il parigio esterno sul campo dello United l'Everton è al sedicesimo posto della classifica una situazione che ha consigliato di virare immediatamente sulla grande esperienza di Ancelotti che a distanza di otto anni farà così il suo ritorno nel calcio inglese la speranza è quella di poter rinverdire i fasti vissuti col Chelsea dove nel biennio 2009-2011 ha portato i Blues ad ottenere il double vincendo nella stessa stagione Premier League ed FA Cup la bacheca dell'Everton invece è rimasta chiusa dal lontanissimo 1995 quando si aggiudicò per la quinta volta nella sua storia la Coppa d'Inghilterra ancor più in remoto l'ultimo trionfo in campionato datato 1987 l'esordio di Ancelotti è previsto sabato prossimo nella sfida casalinga contro l'Arsenal altra società a cui era stato accostato nei giorni scorsi ma già domani sera potrà farsi un'idea della sua nuova squadra impegnata contro il Leicester nei quarti della Coppa di Lega e dove sarà diretta per l'ultima volta da Duncan Ferguson di certo Ancelotti avrà ieri guardato con curiosità all'urna di Nyon che per l'oramai suo ex Napoli dell'amico Rino Gattuso ha riservato l'avversario più terribile ovvero quel Barcellona smanioso di riprendersi a ogni costo la Champions League che manca nella sua ricchissima bacheca da ben cinque anni sorridono invece le altre nostre squadre ancora in lizza nelle coppe europee con Juventus ed Atalanta che possono guardare con discreta fiducia all'obiettivo quarti dovendo affrontare rispettivamente i francesi del Lione e gli spagnoli del Valencia buone notizie anche sul fronte Europa League con l'Inter che dovrà affrontare i modesti bulgari del Ludo Goretz e la Roma che se la vedrà contro i belgi del Gantt ci fermiamo vi lascio come sempre a Tagadà l'informazione torna alle 20 noi si volete domani alle 13.30 con il telegiornale una buona giornata a tutti voi grazie a tutti